For Joy For Joy è esattamente la gioia di condividere perché concentriamo in 3,5 m, 4 sportelli, 4 posti comodi, tutta l'innovazione, quindi le connessioni di bordo oggi richieste dai nostri clienti, con lo smartphone riusciremo a comandare ad esempio gli strumenti di bordo, concentriamo tutta l'innovazione nelle motorizzazioni che consumeranno il 20% in meno e ovviamente saranno anche elettriche e poi tutte le caratteristiche, il DNA che da sempre rende famosa Smart in tutto il mondo. Smart è un grande successo, tranquillizzo tutti gli appassionati che continuerà a esistere, una Smart due posti, corta come quella di oggi, 2,69 m, la For Joy dalla quale nascerà la 4-4 alla fine di quest'anno è una versione che si va ad aggiungere, proprio per andare a soddisfare le esigenze di un pubblico che ci ricorda le donne, le donne che hanno sempre amato la prima generazione di classe A e che oggi magari non trovano una vettura adatta nell'ambito della gamma Mercedes-Benz Smart. Smart è da sempre legata all'arte, è l'unica vettura attualmente in produzione esposta al MoMA di New York, proprio per questo motivo abbiamo deciso di abbinarci alla street art che è la tendenza del momento, qui a Roma al quartiere Ostienza che è un quartiere dove si vive un gran fermento proprio in termini artistici per presentare la For Joy, è arte allo stato puro. Nel 98 abbiamo rivoluzionato il mondo della mobilità, quest'anno, anzi ormai lo scorso anno lo abbiamo fatto nuovamente introducendo per primi sul mercato il Car2Go, che è un car sharing completamente flessibile, si prende l'auto dove la si trova, grazie ad un'app sul telefonino e la si lascia dove ci torna più comodo. È stata un'innovazione incredibile, i milanesi l'hanno sposata subito, così come noi speriamo faranno i romani nel breve periodo perché in circa uno o due mesi noi pensiamo di arrivare anche a Roma. Solo Smart poteva inventarsi il Car2Go proprio perché noi dobbiamo fare un passo in avanti, altri competitor sono arrivati con soluzioni simili alla Smartina e noi andiamo avanti, andiamo avanti sulla nostra strada e cerchiamo di trovare nuove soluzioni di mobilità. La nuova generazione Smart arriverà entro la fine di quest'anno, speriamo già a novembre, quindi a tutti i nostri appassionati dico di aspettare, soprattutto alle donne, le donne che hanno tanto amato la classe A della prima generazione di Mercedes, aspettate novembre perché troverete una vettura che in tre metri e mezzo riuscirà a garantire tutti i valori di propri Smart. Tanta innovazione, bella, giovane, dinamica e innovativa. Sicuramente è una macchina molto impegnativa ma devo dirti adatta anche alla mia personalità, prima di tutto perché amo il design, amo l'aspetto moderno e la qualità, quindi è un onore per me poter guidare la Jeremy, appunto disegnata da Jeremy Scott in edizione limitata, quindi è davvero un onore e un piacere poterla utilizzare, oltretutto condurla e guidarla in un'iniziativa bellissima perché poi questa Smart sarà destinata all'asta benefica appunto e ricavata andrà alla Fondazione Laureus, quindi per me è un grande onore e orgoglio poterla guidare. Rappresenta la comunità, rappresenta una macchina avvolgente, moderna e giovanile, quindi può essere secondo me la chiave giusta e la mia compagna di viaggio. Con colata moltissimo e poi soprattutto ci sto e questa cosa è un elemento importantissimo per me.